Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo... Oh grazie per avermi aspettato Benvenuti in questo nuovo video Eh questo nuovo video L'area natalizia si fa sentire Gabriele come sempre è rimasto a dormire Nel suo bellissimo letto Niente, quindi l'area natalizia si fa sentire E oggi siamo qui per augurarvi un buon Natale E la vigilia di Natale Il tempo non lo dimostri, infatti è un bel calduccio Noi ce ne andiamo adesso Andiamo a preparare i regali E questa notte li scarteremo Ma adesso andiamo a divertirci un po' Ciao ragazzi, bella Ciao a tutti Ciao a tutti Buon Natale Ciao a tutti 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 Ciao a tutti